Per presentare la giuria abbiamo Gloria I. Eduardo Arimbau, Corrina Della Rosa, Julio Balmaseda, Leila Renz, Leandro Oliver e poi abbiamo Chicca Tommasi che oltre ad aver curato la coreografia che abbiamo utilizzato come sigla iniziale sul famoso brano Tanghera, è stata anche la coordinatrice della competizione. Bene, iniziamo questa prova con il tango salon, il tango salon è il tango classico, il tango tradizionale, il tango che si balla abbracciati, molto stretti ed ecco perché la coppia ha poca possibilità di movimento ma sicuramente è il genere che esprime maggior passione. Grazie a tutti. 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 da queste tre ronde i giurati sceglieranno la coppia che vincerà il campionato europeo di tango grazie ragazzi, grazie mille